Cioè questa è una cosa, un Mourinho, capisco solo la filosofia, ha anche ragione in tante volte, però come per me, come io amo il calcio, lui è capace di fare giocare la squadra più davanti, con più avventura. Però lui diventa sempre un calcatore al momento che lui è un po', quando i prezzi sono vicini, quando il campionato è vicino lui è calcolatore.